...tutti i colori che vi trovano qui, è per raccontare quella che vanno. Cominciando dal primo punto, è relativo praticamente a... ...e che non solo promuove il ricordo, ma che soprattutto promuove la memoria. ...perché la differenza tra tanto la casa di Matteo e Sina del Aero, la scuola, che è ancora viva, ancora c'è, è presente, prova a fare con i confronti dei matiosi, con tutte le matiosi, con tutte le matiosi, con tutte le matiosi, con tutte le matiosi, per avere un nuovo sistema di convivenza... Ecco la differenza che tu gli hai detto, questa cosa la gestisce. ...e che scrive un applauso, per liberare, anche a quello che... ...la scuola è leggermente una persona di Mattarella, ma per quelle che sono le figure che hanno contattato, si hanno citando realmente la loro vita... ...e che teniamo come noi potremmo dare la propostità anche agli visitatori, adesso, di Ruce, per il murale, se lo faranno a parte a Roma... ...e che è stata leggerita, l'ho sottolineato dal Presidente della Commissione Antematica, però c'è altro, il Presidente, che abbanno aggiunto... ...e come destinatario di quelli che saranno i proventi della raccolta propria che faremo durante quella giornata. ...e come l'evento, in un momento, per me, anche molto importante, se non ricordo male, 75 mila euro al Consiglio dell'Amministrazione... ...e che si è considerata delle grandi risposte... ...e che la crisi internazionale è stata successiva, però certamente... ...e che... ...la posta con una distretta probabilità potrebbe essere il 15... ...e che...